Ci siamo, il 3 giugno è ormai imminente. Dalla Bergamasca stanno per partire circa 2000 pellegrini. Qui a Sottomonte ogni giorno ne arrivano davvero tanti. Qui a Sottomonte assistiamo ormai da un anno a un continuo flusso di pellegrini. Poi adesso che si avvicina la data del 3 giugno è in aumento sempre a domenica. Sottomonte si gira poco, nel senso che le strade sono occupate da moltissimi pellegrini. Ma anche questa settimana, a vigilia dell'anniversario della morte di Papa Giovanni, ogni giorno ci sono pellegrini dai 400 e dai 500 persone che arrivano in chiesa, visitano i luoghi. In più siamo in ballo con la novena e quindi ogni giorno c'è un vescovo che celebra la messa del pellegrino alle ore 16. Anche quelle messe sono molto affollate, la sera il rosario, nei luoghi significativi di Papa Giovanni. Quindi pellegrinaggio a Roma, ma un pellegrinaggio continuo anche nei luoghi di Papa Giovanni. E il pellegrinaggio a Roma è il momento forse anche più atteso? Sicuramente. Ieri il vescovo mi aggiornava sui numeri, quindi saremo attorno alle 2000 persone, ma credo che il numero andrà ancora aumentando perché molti si stanno organizzando in maniera personale, senza magari appoggiarsi all'ovete, lo ricordo, comunque è possibile farlo. Alle 16 in piazza San Pietro saranno distribuiti i pass per entrare alla messa in San Pietro. Certamente c'è un grande fermento, una grande gioia per questo incontro con Papa Giovanni, che per noi è un padre, perché certamente è un pontefice, un padre di tutta l'umanità, ma anche è stato un fratello che così ha portato lo stile nostro della tradizione bergamasca nel pontificato e quindi nel mondo intero. Sarà un grande incontro con un fratello che ci aspetta e ci aspetta ancora per abbracciarci. Nel frattempo qui a Sottomonte gli interventi continuano e si implementano i servizi per l'accoglienza di tutti questi pellegrini. Devo dire che i pellegrini sono molto contenti di quello che stiamo facendo sotto il monte. Il merito va indubbiamente al Vescovo che crede in questo progetto e che spinge. Dopo la realizzazione della cripta e della casa qui, dell'accoglienza, della casa del pellegrino, è in via di ultimazione la realizzazione del Giardino della Pace, che è uno grande spazio esterno che fa da un anfiteatro e conduce all'ingresso della cripta direttamente dall'esterno, quindi senza più passare dalla Cappella della Pace. Allargerà quindi lo spazio dedicato alla preghiera e alla meditazione nel complesso del santuario che, ricordo, è costituito dalla chiesa parocchiale, la Cappella della Pace, la cripta e il Giardino della Pace. Sarà un luogo di meditazione, di preghiera, un luogo per ripercorrere idealmente la vita di Papa Giovanni, i suoi anni trascorsi all'estero e poi gli ultimi anni a Roma e insieme vivere e sentire la spiritualità di Papa Giovanni, quella spiritualità che si condensa particolarmente, quindi termina il percorso davanti al crocifisso, perché quello, come dice lui, il segreto della sua vita di sacerdote era l'amore per il crocifisso. Il 3 giugno Monsignor Dolcini sarà a Roma, ma qui sotto il monte comunque ci sono delle iniziative. Io parto la sera, tardi del 2 giugno, perché fino all'ultimo qui occorre accogliere i pellegrini. Il 3 giugno sotto il monte sarà grande festa, al mattino la celebrazione delle messe, secondo gli orari festivi, quindi giornata di celebrazioni, di confessioni, come ogni domenica del resto sotto il monte. Il pomeriggio, dopo la messa solenne delle 16, con la supplica a Papa Giovanni, di messa del pellegrino, sono sospese le altre messe perché alle 17 ci sarà il collegamento con Roma e verrà trasmessa sullo schermo gigante la messa presieduta dal Vescovo con tutti i pellegrini bergamaschi e a seguire godremo anche noi dei saluti e dell'abbraccio paterno del Papa Francesco a tutti i pellegrini, con un saluto particolare evidentemente ai pellegrini di sotto il monte e sono numerosi che scenderanno a Roma in questi giorni e quindi anche per noi sarà bello essere uniti anche attraverso la televisione sotto il monte e Roma in questo giorno per noi felicissimo.